Musica Vediamo insieme i titoli del nostro sommario Scontro fra moto e camion in viale primo maggio a Fano E grave il centauro trasportato nelle ambulanze al Torrette di Ancona Università di Urbino e Prefettura insieme contro la mafia nel settore degli appalti Illustrata a Pesaro l'intesa per la legalità Bollettini, programmi TV e notizie incentrate sul Covid La pressione mediatica aumenta, l'allarme sociale Intanto c'è chi perde i clienti per la paura dei nuovi contagi Un problema esiste, ma arrivare a questi livelli Evidentemente non tengo che sia oltre la soglia massima Rosa Maria Lucchetti tra gli eroi del coronavirus La Cassiera Pesarese premiata al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella Arte, musica, poesie e letteratura Da domani su Fano TV il ciclo di incontri organizzato dal Circolo Culturale Bianchini Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Apriamo con il grave incidente che si è verificato questa mattina a Fano Tra un camioncino e una moto Il centauro, una sessantenne pesarese, è stato trasportato in eleambulanza al Torrette di Ancona Tutti i particolari nel servizio di Letizia Marchionni Grave incidenti questa mattina intorno alle 12.30 a Fano In Viale Primo Maggio, all'altezza della BCC e del negozio di elettronica computer service Le dinamiche sono ancora incerte in quanto sono ancora in corso i controlli delle telecamere della banca da parte della polizia locale Ma secondo i primi rilievi risulta che un camioncino con a bordo due corrieri L'autista, un ventenne di fermo ed un collega provenienti da Fano e diretti verso Pesaro Avrebbe fatto inversione di marcia nel parcheggio che si trova davanti al negozio di elettronica Mentre si stavano immettendo nella carreggiata però è sopraggiunta una moto proveniente da Pesaro Una BMW di colore nero Il motociclista avrebbe urtato contro il mezzo pesante Finendo per schiantarsi contro un'auto parcheggiata davanti alla BCC Danneggiandone la carrozzeria Il centauro, un sessantenne pesarese, è stato portato al Torrette di Ancona con l'eleambulanza Atterrata in un campo nei pressi del luogo dove è avvenuto l'incidente Sul posto presenti due pattuglie della polizia locale di Fano per i rilievi di legge e per monitorare il traffico e di vigili del fuoco E adesso ci spostiamo in prefettura Pesaro dove questa mattina è stato illustrato il protocollo intesa per la legalità Un progetto pilota siglato insieme all'Università di Urbino per contrastare l'infiltrazione mafiosa negli appalti universitari Il servizio è di Angelica Panzieri Grande attenzione ai flussi di denaro e alle mafie Con la consapevolezza che l'università ha un ruolo fondamentale nel trasmettere i principi di legalità ai giovani Questa mattina in prefettura il prefetto Vittorio Lapolla e il rettore dell'Università di Urbino Vilberto Stocchi Alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia e della guardia di finanza Hanno illustrato i contenuti del protocollo intesa per la legalità Già sottoscritto il 16 ottobre scorso ad Urbino alla presenza del ministro dell'interno Luciana Lamorgese Un documento strategico con cui entrambe le parti si impegnano a tutelare gli appalti della stessa università Da possibili infiltrazioni criminali Non abbiamo al momento informazioni o evidenze che ci siano infiltrazioni strutturate nella nostra provincia Però questo ovviamente non ci deve far abbastare la guardia Anzi ci deve spingere a rafforzare questi strumenti di prevenzione che abbiamo Il mio intento è quello di estendere il protocollo anche ad altre stazioni appaltanti Perché è un protocollo innovativo, un protocollo all'avanguardia, avanzato Per cui la possibilità o la possibile estensione di questo protocollo anche ad altri settori Potrebbe favorire questa azione di prevenzione, di contrasto a eventuali fenomeni di infiltrazione criminale Oltretutto, d'accordo anche col ministro e col magnifico lettore, non escludiamo che questo protocollo Proprio per la sua portata innovativa possa eventualmente essere stesso anche ad altre università italiane Un protocollo che diventa strategico anche in vista degli investimenti che l'Università degli Studi di Urbino ha messo in campo È stato possibile in questi anni elaborare un importante piano di sviluppo La realizzazione del polo scientifico tecnologico Enrico Mattei Che vedrà 5.000 metri quadri di laboratori scientifici Poi la nuova sede della Facoltà di Scienze Motorie, altri 16.500.000 euro Poi ci sono altri interventi che riguardano Palazzo Bonaventura, San Girolamo La prossima settimana l'inaugurazione del rettorato con una sala dedicata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione E l'Aula Magna e le segreterie Poi abbiamo fatto interventi che riguardano anche Palazzo Battiferri Quindi complessivamente tutti questi interventi che hanno una copertura per intorno a 45 milioni di euro E nelle Marche c'è stato un altro decesso legato al coronavirus La vittima è un'anziana di 87 anni, residente ad Ascoli Piccino, che presentava patologie pregresse La donna è deceduta all'ospedale di Fermo Inoltre nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 89 positivi su oltre 909 diagnosi Circa il 9,7% A livello provinciale a Macerata sono stati riscontrati 25 casi 21 ad Ancona, 16 a Pesor Urbino, 6 a Fermo, 17 ad Ascoli Piccino e 4 fuori Regione I ricoveri invece salgono a 118, 5 in più rispetto a ieri In aumento anche i pazienti in terapia intensiva che passano da 16 a 19 Di cui 8 ad Ancona, 6 a Marche Nord e 4 a San Benedetto del Tronto Il Ministero dell'Istruzione oggi ha inviato ai dirigenti scolastici una nota per spiegare l'attuazione del nuovo DPCM Nulla cambia per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e quella secondaria di primo grado Le superiori invece potranno adottare in caso di situazioni critiche o di particolare rischio Comunicate però dalle autorità sanitarie o dagli enti locali Ulteriori forme di flessibilità incrementando ad esempio il ricorso alla didattica digitale integrata Oppure modulando ulteriormente rispetto a quanto già disposto da settembre Orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani Nell'ambito di questa possibilità le scuole predisporranno che l'ingresso non avvenga prima delle ore 9 come previsto dal decreto Però non è un provvedimento automatico Nuovi interventi sull'organizzazione scolastica avverranno soltanto in caso di situazioni critiche E nell'edificio o nell'ufficio scolastico della regione Marche si è svolta una riunione del tavolo permanente Dopo un confronto con l'Asur è emerso che la messa in quarantena di studenti o del personale scolastico spetta l'autorità sanitaria Inoltre è stato precisato che la richiesta del tampone non comporta limitazioni come per la persona posta in quarantena Quindi per gli alunni o i docenti che non sono in quarantena ma in attesa del tampone non è pregiudicata la presenza a scuola L'autorità sanitaria raccomanda tuttavia l'uso rigoroso della mascherina da parte del soggetto interessato Altro tema affrontato è stato quello della concessione dell'uso delle palestre scolastiche a enti e associazioni per lo svolgimento di attività sportive Durante la riunione è stato chiarito che servizi igienici, spogliatoi e attrezzature dovranno essere sanificati sia al termine delle attività didattiche a carico del personale della scuola Sia alla fine delle attività svolte dall'associazione sportiva ma a carico dell'associazione stessa Interviene l'ente locale se uno o entrambi i soggetti non fossero in grado di garantire le operazioni richieste Cambiamo argomento perché dopo l'appello lanciato questa mattina ai nostri telespettatori nel corso della rassegna stampa Abbiamo sentito il parere dei fanesi per sapere che cosa ne pensano della grande quantità di informazioni relative al covid Veicolate ogni giorno dai media locali e nazionali Si chiama infodemia ed è il neologismo cognato dall'OMS proprio per descrivere il fenomeno che stiamo vivendo a causa del coronavirus Una sovrabbondanza di informazioni, tra l'altro non sempre corrette, che confondono e spaventano in maniera eccessiva le persone Rendendogli difficile trovare una guida sicura quando ne hanno bisogno Il termine non fa ancora parte della lingua italiana ma centra in pieno la situazione in cui ci troviamo ogni giorno Sommersi da televisioni e giornali che parlano continuamente di covid E dopo l'appello fatto nella rassegna stampa di questa mattina dal nostro direttore Marco Ferri Siamo venuti qui in centro a Fano per verificare se effettivamente i fanesi pensano di essere bombardati da un'eccessiva mole di notizie sul coronavirus Sicuramente da una parte è positivo per tante cose, però dall'altra ci sono tante persone che ne risentono magari Magari parlarne un po' meglio magari Ad esempio con mia nonna trovo problemi, ogni volta che si parla di covid va in paranoia Insomma non è sempre facile, parlarne un po' più semplicemente in maniera un po' più pratica potrebbe anche far meglio E' un terrorismo che non accetto, assolutamente, penso che dobbiamo assolutamente seguire le regole Ma evidentemente fino a un certo punto perché chiaramente un problema esiste Ma arrivare a questi livelli evidentemente non tengo che sia oltre la soglia massima D'altronde è l'argomento del momento, purtroppo ci informano su quella che è la situazione attuale In questo senso ci tengono informati, certo che alle volte esagerano un po', cercano un po' di mettere timore Il coronavirus visto anche come malattia della comunicazione e dell'informazione Vede d'accordo anche molti telespettatori che hanno inviato numerosi messaggi alla nostra redazione Raccontandoci il proprio parere a riguardo e dichiarando, citandone alcuni Che è insopportabile ascoltare tutti i giorni i bollettini andati a scovare in ogni angolo E che il virus dobbiamo imparare a conoscerlo e a conviverci Ma non facendoci distruggere perché in questo modo ci auto-infilgiamo un male maggiore più di quanto già faccia il covid Non tutti però la pensano così Anche giusto che sappiamo cosa ci succede intorno Pensate che possa creare confusione magari ai più anziani e a chi fa più fatica a capire Beh, dipende dalle informazioni che vengono date poi in realtà Però in linea di massima comunque c'è bisogno di informazione Forse un po' troppo però Comunque è bene sapere la situazione Ma del resto in tutti i paesi d'Europa, del mondo lo stanno facendo Cioè il bollettino giornaliero c'è dappertutto Poi dopo sono le interpretazioni dei dati che dalle volte sono divergenti Però è bene che ci siano, i dati ci devono essere Non metterli sarebbe ancora più pericoloso Perché potrebbe far pensare a una situazione totalmente fuori controllo Più di quello che è E l'aumento di contagi ma anche l'eccessiva informazione mediatica Stanno facendo preoccupare anche estetiste parrucchieri Che stanno registrando un calo di clientela Giorni fa si è ripotizzata la chiusura totale dei centri estetici e dei negozi di parrucchiere Invece il decreto firmato due giorni fa dal Premier Conte non contiene altre limitazioni Al momento dunque queste attività restano fuori dalle nuove misure Che prevedono invece una stretta per altri settori In caso contrario estetiste parrucchieri avrebbero dovuto affrontare ulteriori difficoltà Oltre a quelle già subite durante il periodo del lockdown con incassi ancora da recuperare Tante invece le precauzioni che vengono adottate ogni giorno Gel, mascherine, igienizzare tutto prima e dopo, soprattutto dopo E una poltrona sì, una poltrona no Il discorso del monouso come attrezzi, mantelline e quant'altro, asciugamani, quello sempre Il problema è diverso che con tutto il parlare degli ultimi dieci giorni In automatico c'è meno gente già dall'ultima settimana Speriamo che tutto torni alla normalità quanto prima Poi ha aggiunto Simone Boccarossa L'auspicio è condiviso anche dalle estetiste Barbara e Susanna Che quotidianamente sterilizzano le attrezzature e sanificano gli ambienti Anche con l'ozono con grande attenzione All'ingresso del centro il gel igienizzante, un termoscanner E le autocertificazioni che le clienti devono compilare Siete preoccupati per un'ulteriore stretta di queste norme? Allora, siamo preoccupati Io credo che non avverrà questa cosa Perché ormai siamo tutti informati, controllati Sappiamo come affrontare questa cosa Come queste ne abbiamo avuto di altre Comunque di cose preoccupanti No, io credo di no che non avverrà Comunque se dovesse essere Accetteremo anche questa Già subito dei momenti difficili, duri Una chiusura di tre mesi quasi di un locale Diciamo che è abbastanza dura da affrontare Noi abbiamo vissuto serenamente anche quella Sono una persona positiva Pertanto sì, vabbè, sono stati tre mesi Ho guardato il lato positivo Mi sono goduta un pochino la famiglia Poi siamo ripartite in quarta Abbiamo avuto una bella stagione Si è lavorato Certo, dobbiamo tenere gli appuntamenti molto più dilatati Perché comunque entrate e uscite Anche se noi qui abbiamo due entrate e due uscite È tutto molto contingentato Insomma, ecco Siamo serene però Dico la verità Le clienti accettano tutta la cosa Certo che ha creato ultimamente questo fatto di dirlo Crea un attimo di tensione nei clienti Specie perché noi lavoriamo comunque con una programmazione Magari anche di un paio di mesi, tre mesi Noi lavoriamo con il laser Sono programmazioni anche di mesi È normale che prima di farti un pacchetto Un percorso ci pensi due volte E al Quirinale questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna Delle onorificenze di Cavaliere dell'Urdine Al merito della Repubblica Italiana Conferite dal Presidente Sergio Mattarella Tra i premiati c'era anche una cassiera di Pesaro Rosa Maria Lucchetti Le favole esistono È questo il commento pubblicato su Facebook da Rosa Maria Lucchetti La cassiera part-time all'Ipercop Miralfiore di Pesaro Premiata questa mattina al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Rosa Maria Lucchetti Cassiera all'Ipercop Mirafiore di Pesaro Rosa è parte di quella filiera alimentare che ci ha permesso Anche durante il lockdown di avere cibo sugli scaffali e poi nelle nostre case Ha fatto un dono agli operatori del 118 Con delle carte prepagate COP del valore 250 euro l'una Si è firmata soltanto con il suo diminutivo Gli operatori sono riusciti a scoprire chi fosse quando il Presidente l'ha nominata Cavaliere Rosa è tra i 56 eroi del Covid insegnati dell'onorificenza al merito I nomi dei premiati erano stati resi noti lo scorso 3 giugno Ma il Capo dello Stato ha voluto omaggiare personalmente Chi nei mesi della pandemia, lavorando o decidendo di fare volontariato Ha dato il proprio contributo nella battaglia contro il nemico invisibile Molti di loro sono medici dal team dello Spallanzani a quello del Sacco Fino che ha deciso di andare a sostituire in piena zona rossa i colleghi messi in quarantena Tra i nuovi cavalieri della Repubblica ci sono anche volontari della Croce Rossa Insegnanti, un alpino, un addetta alle pulizie Un giocatore della nazionale di rugby e la cassiera di 52 anni Che a fine marzo aveva scritto una lettera agli operatori del 118 di Pesaro Rosa non solo aveva ringraziato gli angeli che lavoravano per salvare le vite Ma gli aveva lasciato anche tre carte prepagate da 250 euro Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ha esclamato Quando ho entrato nella sala il capo dello Stato, racconta Lanza con la voce rotta dalle lacrime Ho alzato gli occhi al cielo, sentivo i miei genitori addottivi accanto a me, a loro la dedica Emozionante essere al Quirinale, ha aggiunto Rosa È un posto meraviglioso, tutti molto accoglienti Attraversavo sale immense, mi è sembrato di essere una principessina in una favola Poi l'arrivo del Presidente la consegna uno a uno delle onorificenze Rosa Maria Lucchetti, cassiera all'Ipercop Mirafiore di Pesaro Ha fatto un dono agli operatori del 118, in tasca propria, con delle carte prepagate cop del valore 250 euro l'una Gli ho inviato due baci con la mano, mi ha sorriso stringendo gli occhi, ricorda Mattarella ha percorso il periodo più brutto della pandemia Ti emoziona e pensi a tutto quello che è successo e alle persone che se ne sono andate Infine, ha concluso la cassiera, il piacere di conoscere gli altri cavalieri Ognuno con il proprio vissuto ed è un ricordo che porterò per tutta la vita E da domani Fano TV trasmetterà gli otto appuntamenti organizzati dal Circolo Bianchini di Fano Si tratta di una rassegna dedicata all'arte, alla cultura, alla musica, ma anche ai temi di stretta attualità Nato nel 1984, negli ultimi due anni il Circolo Culturale Angiola Bianchini di Fano Ha iniziato ad aprirsi alla città, coinvolgendo anche i più giovani attraverso un nuovo linguaggio di comunicazione E l'ultima rassegna, intitolata Esplorare i confini, ha proprio questo obiettivo Condividere e divulgare con tutti la storia, l'arte, la musica e la letteratura Grazie alla presenza di ospiti illustri ed esperti del settore Gli otto appuntamenti in programma fino a metà dicembre verranno trasmessi sul canale 17 di Fano TV L'emittente, infatti, è media partner dell'iniziativa che beneficia anche del patrocinio del Comune di Fano La rassegna prenderà il via domani alle 16.30 con Silvio Garattini, scienziato e farmacologo Che ci parlerà dell'impatto della pandemia da Covid-19 sulle strutture sanitarie Ogni appuntamento verrà trasmesso in replica il giovedì sera alle 21.15 e la domenica alle ore 21 Seguiranno delle puntate a cura del maestro Enzo Vecchiarelli, quindi di ambito teatrale, musicale Una su Gianni Rodari e una su Achille Campanile Ci sarà un'altra intervista di ambito medico al dottore Emanuele Angelucci Ematologo, direttore di ematologia al San Martino di Genova Quindi un'intervista al maestro Oscar Piattella in occasione della sua personale allo spazio d'arte pescheria di Pesaro Ci sarà una puntata su un grande scrittore musicista del romanticismo, Hoffman E quindi comprenderà sia conferenza che esecuzione musicale E quindi per concludere una puntata su Pompei, sullo stato attuale degli scavi di Pompei a cura di Valeria Purcaro E ultimissima una puntata sul canto quinto del purgatorio, quindi Jacopo del Cassero L'iscrizione di San Domenico, quindi un tema che unisce sia il tema dantesco Che è insomma il tema della nostra città, insomma delle memorie storiche di Fano La rassegna rientra nel più ampio progetto denominato Zaffiro d'Oriente Da gennaio infatti si svolgeranno altri 35 incontri in presenza, Covid permettendo Si andrà dalla poesia alla storia del Carnevale di Fano Dai cambiamenti climatici a un seminario di studi sul pensiero del Giappone Previsti incontri dedicati anche alla Cina, alla scienza e alla musica elettronica In collaborazione con Fano Jazz Network In un momento difficile come questo, ha detto l'assessore Tinti, è perfetta la parola resilienza Il circolo non si è reso, ma anzi ha saputo adattarsi alle nuove esigenze Uscendo dai confini e dando un taglio innovativo al programma ricco e variegato E sempre più un pollo di attrazione sociale e culturale La nostra spinta è andare in questa direzione, farla diventare se possibile nel tempo anche La collaborazione di giovani e di altre persone è un'eccellenza L'idea è di catturare le tematiche più importanti che circolano a livello nazionale e internazionale Le forme artistiche più interessanti, più significative E portarle qui, aprire così un dibattito, diciamo un fervore culturale Che possa essere anche poi creativo insomma per i giovani E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale L'informazione torna domani mattina con la nostra rassegna stampa Occhi e Giornali Buona serata a tutti voi, arrivederci Grazie 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 Grazie